Roberto Piazza, una lunga estate con la Nazionale e ora finalmente il campionato, anche tu come gli atleti non ti fermi mai. Sì, è un campionato, intanto andiamo a iniziare un campionato meraviglioso che è la cosa che mi preme di più. Il discorso del non ti fermi mai è una volontà, è una scelta che ho fatto anni fa, mi piace quello che faccio, cerco di trasferire i giocatori il meglio che posso di quello che è il mio vivere alla pallavolo. Diciamo che adesso a livello internazionale si sta un po' esagerando con quelli che sono gli impegni. Non sono riuscito a capire onestamente il discorso del mondiale negli anni, perché siamo l'unico sport che fa questa cosa e quindi credo che sia il momento proprio di sedersi a un tavolo e riflettere un attimino. Se l'obiettivo è migliorarsi, con questo a Milano migliorarsi diventa impegnativo dopo la bellissima stagione dell'anno scorso. Migliorarsi per quanto concerne il playoff è una cosa, migliorarsi per quanto concerne il campionato è un'altra. L'anno scorso Milano è arrivato ottava, quindi credo che sia possibile migliorare. Poi dopo, da lì a dire migliorare l'ultima parte della stagione, l'hai detto giustamente tu, siamo usciti in gara 5 da una semifinale, avendo avuto un match ball in casa, importante, che non abbiamo sfruttato per la capacità della squadra avversaria, quindi meriti alla Lube. Quest'anno proveremo anche a fare quella cosa. Dall'ottavo posto a questo playoff che cosa è scattato l'anno scorso? Credo che sia scattata nei giocatori la convinzione di essere una squadra che poteva fare qualcosa di particolare, di speciale. Come ho detto ai ragazzi pochi giorni fa, quando ci siamo ritrovati e che ci siamo parlati per affrontare la stagione, l'anno scorso lo switch è stato dato da una gara in casa contro Trento prima della semifinale di Coppa Italia, sempre con Trento. Due partite perse 3 a 2, due partite perse in maniera diversa, però giocate molto bene, quindi da lì credo che la nostra squadra abbia avuto una presa diversa nei confronti proprio dei compagni. Quest'anno hai un elemento in più in squadra di grosso spessore e grossa esperienza che è di casdischi, che ruolo avrà nella tua squadra? Mattei, l'hai detto giustamente tu, è un giocatore di grossa esperienza, carismatico, credo che dovrà trasferire ai suoi compagni la tranquillità di affrontare le partite da dentro fuori.